Nella recente storia svizzera e almeno dal 1992, cioè sulla votazione sull'entrata nello spazio economico europeo respinta da una lieve maggioranza del popolo e una larga maggioranza dei cantoni, che la nostra nazione, il nostro governo, il Parlamento, il popolo e i cantoni si trovano confrontati in accordi bilaterali con l'Unione Europea. Penso in particolare a Schengen, penso a Dublino, penso alla libera circolazione delle persone, ma penso anche ai finanziamenti alle nuove nazioni che sono entrate nell'Unione Europea, oppure di recente al miliardo di coesione spalmato su dieci anni. Dunque tutta una serie di accordi che hanno costretto la diplomazia elvetica, il Parlamento e il popolo a mediare per mantenere il benessere elvetico. Questo anche perché l'importanza del commercio estero che frutta mediamente 2 franchi su 5 prodotti è la ricchezza che può essere mantenuta e prodotta. D'altra parte il governo deve anche tener conto di quelle che sono le esigenze che il popolo ha espresso nelle votazioni e in particolare mi riferisco all'iniziativa contro l'immigrazione di massa accettata dalla maggioranza del popolo contro il volere del governo. Tutto questo fa sì che il governo deve riuscire a bilanciare quelle che sono le esigenze da parte dell'Unione Europea e quelle che sono le esigenze del governo, il popolo e il Parlamento svizzero per un mantenimento della ricchezza. Lo scorso 7 giugno l'associazione culturale L'incontro di Mendrisio ha organizzato una conferenza con l'ambasciatore Lautenberg sul tema dei rapporti tra Svizzera e Unione Europea. E proprio quel giorno il nostro governo ha approvato le consultazioni concernente l'accordo istituzionale tra Svizzera e Unione Europea chiedendo nuovi chiarimenti. Sentiamo nell'intervista realizzata per noi da Moreno Bernasconi l'opinione dell'ambasciatore Lautenberg. Alexis Lautenberg, lei è uno dei più grandi conoscitori delle istituzioni europee e da sempre ha seguito e ha attuato la politica bilaterale tra la Svizzera e l'Unione Europea. Come valuta la decisione di oggi del Consiglio federale sulla questione dell'accordo quadro? Non è una domanda facile. Bisogna probabilmente mettere, piazzare questa decisione nel suo contesto. Il contesto è composto da due elementi. Il primo da una serie di accordi bilaterali che sono stati conclusi dall'inizio degli anni 90 a tutt'oggi e quindi che andavano in un certo senso inseriti in una logica comune che a tutt'oggi non esiste. Il secondo elemento è come il contesto più globale europeo e internazionale si è sviluppato in questi ultimi anni. Per quello che concerne la seconda parte, quello che è molto importante è lo sviluppo dell'Unione Europea stessa, la sua coesione, i suoi problemi, ma anche naturalmente negli ultimi tre anni la Brexit che ha avuto un impatto molto forte sulla coesione interna e il modo di reagire e per riflettere a nuovo su quello che può essere un rapporto istituzionale tra un paese terzo e l'Unione Europea. Quindi questo è un po' la tela di fondo della decisione di oggi. La Svizzera ha cominciato a negoziare questo accordo più di cinque anni fa e probabilmente non ha proceduto, soprattutto nei primi anni con questo negoziato, diciamo con la determinazione necessaria. Il fatto sta che venendo ad aggiungersi la Brexit nel contesto esterno per l'Unione Europea si è posto in fondo un problema di calendario, un problema di tempistica, un problema di parallelità tra quello che l'Unione Europea credeva di dover fare con il Regno Unito e il ruolo che avrebbe giocato il rapporto con la Svizzera. Questo rapporto è stato complicato nei due sensi, cioè il precedente svizzero che andava inquadrato e nell'altro senso per chiaramente mostrare ai britannici quello che non è più possibile fare. Sulla prima annotazione che ha fatto però è intervenuta comunque un voto storico da parte del popolo svizzero, una battuta d'arresto sulla politica nei confronti dell'Unione Europea rispetto agli ultimi anni che è stata l'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Il Consiglio federale non ha avuto un po' le mani legate da questo? Penso che effettivamente l'abbia percepito in questo modo. D'altro lato il modo in cui la Svizzera, non parlo del Consiglio federale, ma la Svizzera ha gestito questo dossier è oltremodo interessante perché il Consiglio federale come tale ha ovviamente avuto delle difficoltà per l'adempimento di questa disposizione. E lì è successo qualcosa che non è completamente diversa da quello che è successo nel Regno Unito in questi ultimi mesi, è la situazione in cui in un certo senso l'esecutivo passa il dossier al Parlamento. Ed è esattamente quello che è successo, come lei ricorderà, nel settembre-ottobre del 1917 ed è il Parlamento in un certo senso che è venuto con una soluzione. Nel caso del Regno Unito era più complessa. E' una soluzione che in Svizzera è funzionata fino ad oggi. Assolutamente. Questo è stato quello che è interessante, il confronto con quello che è successo nel caso del Regno Unito, dove effettivamente il Governo, praticamente a partire da gennaio-febbraio di quest'anno, era incapace di portare avanti il dossier. Ed è lì che è subentrato il Parlamento. Ma per definizione un Parlamento non può sviluppare delle strategie. Il Parlamento può facilitare la presa di posizioni. E' quello che hanno tentato di fare. Hanno avuto dei voti praticamente su tutte le varianti. Ma il Parlamento è stato incapace alla fine di venire con una soluzione che avrebbe avuto la maggioranza necessaria. Sembra però che sia difficile uscire da lui e forse questo dovrebbe essere di insegnamento anche per la Svizzera, no? Non ci sono precedenti. Si potrebbe discutere lungamente sulle modalità e sulle opportunità e sugli sbagli che sono stati fatti dal Governo britannico e dai due governi. Quello che ha preconizzato il voto e quello che ha poi dovuto cercare di gestirne le conseguenze non è impossibile. Ma bisogna anche vedere una cosa, che c'è un'altra analogia che è determinante per apprezzare quella domanda che lei fa, che è stata l'esperienza anche quella della Svizzera a partire del dicembre del 92. Non c'era un piano B. Non c'era un piano B il 6 dicembre quando venne bucciato l'accordo sullo spazio economico e non c'era un piano B il 24 di giugno del 2016. Esattamente la stessa cosa. E nei due casi, diciamo, il tessuto politico a tutti i livelli nei due paesi era estremamente deteso, senso che ci fosse la possibilità di effettivamente creare delle alleanze che avrebbero potuto in un certo senso oltrepassare questi vincoli. È interessante il suo parallelo perché a questo punto una delle domande che ci si potrebbe porre è questa. Il Consiglio federale chiede all'Unione Europea del tempo per creare un accordo interno per chiarire o rinegoziare alcuni punti. Può l'Unione Europea, assillata dalla questione Brexit, concederci o tempo o addirittura un accordo alla carte quando lo nega o sembra volerlo negare a Londra? Lei, ponendo questa domanda, mette al centro la tempistica. La tempistica non è una scienza esatta. È difficilissimo rispondere alla sua domanda. Come ho indicato prima, la Svizzera ha procrastinato i primi tre anni e mezzo e ha fatto male perché sarebbe stato molto più facile concludere allora che non adesso. Gli argomenti e del resto la lettera che adesso è pubblicata del Consiglio federale al Presidente della Commissione Europea è interessante da quel punto di vista perché non si parla di una tempistica specifica. Si dice che ci sono le contraintes politiques. Dunque è chiaro che bisogna tenerne conto. Io credo semplicemente che la pazienza dell'Unione Europea è agli sgoccioli. Proprio perché abbiamo procrastinato troppo. Penso che il Consiglio federale oggi non aveva altre scelte. Perché? Perché da un lato scegliendo la via di una consultazione e di una consultazione nella quale, contrariamente a quello che è la pratica, il Consiglio federale non ha determinato il suo proprio apprezzamento. era ovvio che al momento in cui i vari enti e i vari players a livello svizzero venivano con loro apprezzamento, era ovvio che sarebbe stato oltremodo difficile per il Consiglio federale di fare una sintesi. Se il Consiglio federale avesse messo questo pacchetto in un certo senso, in consultazione con una sua posizione, gli altri probabilmente avrebbero preso posizione a fronte di quella linea del Consiglio federale. Così è chiaro che c'erano molto più opzioni e quindi era molto più difficile farne una sintesi. Doveva tenerne conto di più di quello che fosse stato il caso altrimenti. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è una ragione a mio avviso che va presa sul serio. Non credo dico francamente per la prima volta. Non credo che l'obiettivo del Consiglio federale sia del guadagnare tempo. Io credo che in seno al Consiglio federale ci siano delle vere preoccupazioni. Delle vere preoccupazioni che se non si riesce a sviluppare una sequenza positiva, cedere adesso praticamente condurrebbe a un risultato negativo in uno e in due i prossimi voti. Quindi è un approccio responsabile che non è facile proporre a fronte di Bruxelles, comunque va fatto perché corrisponde alla realtà. Quindi per la prima volta non lo interpreto nel senso che il Consiglio federale vuole guadagnare tempo. Ha tentato di farlo troppo tempo in passato, ne paghiamo le conseguenze adesso perché le cose oggi sono più serie. Su una cosa non abbiamo tempo in nessun modo perché a fine giugno scade il riconoscimento dell'equivalenza borsistica e lui a seguito di questa decisione del Consiglio federale potrebbe tranquillamente dire ok, allora finché non si conclude niente il riconoscimento dell'equivalenza borsistica e avrebbe anche coerenza, no? Sono d'accordo, sono d'accordo anche sul tranquillamento qualche dubbio. No, per una ragione molto semplice che diciamo questa decisione della Commissione Europea è una decisione altamente politica che non ha nessuna base giuridica perché nell'apprezzamento tecnico l'agenzia competente ha effettivamente concluso all'equivalenza. Quindi il fatto di aver inserito un limite di tempo è al di là del diritto, è un'operazione puramente politica. Per rispondere alla sua domanda bisogna vedere il contesto politico ma siamo al di fuori delle regole del gioco.